Sono state tratte in arresto dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Pesaro le due donne che trasportavano oltre mezzo chilo di cocaina sulla propria auto. All'uscita del casello autostradale di Fano i militari hanno notato e fermato l'autovettura con a bordo due donne, una 36N ed una 32N, entrambe di origini campane che procedevano a velocità sostenuta nonostante i limiti previsti. Dal controllo effettuato è emerso che la donna alla guida aveva precedenti specifici in materia di sostanze stupefacenti. È stata quindi fatta una perquisizione del veicolo con l'ausilio dell'unità cinofila e dal termine del controllo il cane Alex ha segnalato che l'autovettura era inquinata in diversi punti e anche le persone a bordo risultavano essere state contaminate da contatto con sostanza stupefacente. Durante l'ispezione, effettuata dai militari, le due donne hanno tentato di disfarsi di un panetto di cellofan contenente oltre mezzo chilo di sostanza stupefacente, poi risultata essere cocaina, gettandolo dietro una recinzione. La droga e l'auto utilizzata sono state sottoposte a sequestro e le donne sono state condotte presso la casa circondariale di Pesaro.